ciao ragazzi stasera siamo a venezia perché questa sera ci festeggia la festa del redentore per chi non lo sapesse storicamente la festa del redentore ci festeggia perché per festeggiare la fine della feste ho detto festa sette volte poi niente oggi poi i cenni storici esatto oggi porto la vero niente praticamente la serata si svolge così si svolgerà così galeone dei pirati barca quindi davanti a san marco square dove spareranno i fuochi d'artificio perché la festa dell'entore famosa per questi grandiosi fuochi piattaforma sull'acqua e spareranno i fuochi noi siamo pronti per far festa e niente e quindi vi porteremo con noi in questa serata magica chi di voi c'è al redentore